Per questo ho detto sempre, non c'è Dio senza Cristo, perché Cristo avrebbe perdonato persino colui che il Padre non avrebbe perdonato, cioè Giuda. Siccome Giuda conosceva Doniesis, dice questo tanto non mi perdono, mi suicido. E invece no, perché il Cristo incarnato rappresenta l'amore incondizionato dello Spirito Santo che è superiore al Padre. E quindi, cretino, vai e chiedi perdono e ti salvi. Non c'è andato, non è stato perdonato. Però Gesù lo conosceva, per questo ha detto che era meglio che lui non fosse mai nato, perché sapeva che Giuda seguiva la legge del Padre e non del Figlio. Invece io suggerisco di seguire la legge del Figlio perché siamo imperfetti.